Si stanno avvicinando le primarie di domenica 26 febbraio, la lista civica insieme per Omenia sta completando il proprio percorso a sostegno di Alessandro Rondinelli. Quali sono state le azioni portate avanti in questi mesi? Sì, negli ultimi mesi insieme con Alessandro abbiamo incontrato tantissime persone, i cittadini, i commercianti, i consigli di quartiere, le associazioni e la risposta è stata davvero positiva. La gente ha voglia di essere ascoltata. Il 26 febbraio si avvicina, è stato un lungo percorso portato avanti con al fianco una lista civica preziosissima come quella di Insieme per Omenia. Sì esatto, io devo ringraziare molto tutti gli amici che mi stanno sostenendo, soprattutto la lista Insieme per Omenia perché mi sono stati vicino fin dall'inizio e anche queste ultime battute mi stanno dando una mano importante. La reazione che stiamo riscontrando nel porta a porta e incontrando i commercianti io ritengo che sia molto molto positiva. Nel caso in cui vincesse Maurizio Frisone che è l'altro candidato per queste primarie del Partito Democratico, come si comporterebbe la lista civica insieme per Omenia? Lo abbiamo detto sin dall'inizio, sono due numeri uno, sono due persone credibili. Noi non li vediamo come antagonisti ma piuttosto come complementari.